Buongiorno a tutti, oggi è stata una bella giornata, c'è stata la possibilità di essere vicino degli operatori, delle associazioni e delle distanze. FCA è presente col progetto al gramma autonomo da più di 20 anni, quindi abbiamo una presenza consolidata sia in Italia che fuori dall'Italia, il nostro progetto chiaramente è volto ad avvicinarsi alle persone che hanno una disabilità per abbattere le barriere, abbattere le barriere sia sull'offerta di prodotto che noi offriamo, insieme con degli allestimenti speciali gestiti e sviluppati in partnership con degli allestitori di primaria importanza. Abbiamo dei servizi, i nostri centri di mobilità aiutano il disabile ad acquisire la patente speciale che è questo calvario che il disabile deve affrontare, sono 19 centri in tutta Italia dove noi gli facciamo gratuitamente, offriamo dei test psicolo e anche tecnici sulle capacità residuale tramite un simulatore e in più facciamo testare le vetture alla fine di questi test. Ci mancava l'ultimo step di questo percorso che è quello della rete commerciale, abbiamo creato quest'anno un centinaio di dealer specialist autonomi dove il disabile può entrare, chiaramente questi concessionari non hanno barriere architettoniche, hanno dei venditori specializzati e possono già nello showroom vedere e toccare con mano i nostri prodotti e i nostri servizi.